Con un percorso di testa veloce e ben dosato, Alessandro Gocciadoro, Emiliano, uno dei più bravi driver italiani, si è giudicato con Denver Joe, maschio baio di 4 anni, uno spettacolare Gran Premio Città di Taranto all'ippodromo Paolo VI, stabilendo il record della pista, 1-10-3 al chilometro. Di galoppo e squalificati controfavoriti, piazze d'onore a dilettevole NAP e al locale De Ledda. Record della pista, che vuole di più? No, niente di più di così, una bellissima atmosfera, bella premiazione, la pista bellissima, il cavallo è nettamente più forte, una volta al comando è stato tutto facile. Lui è un cavallo che specialmente è il miglio, gli piace correre davanti, è un cavallo veloce, il numero era perfetto, il numero 3, quindi è stato tutto veramente facile. Ecco, dopo Taranto cosa l'attende? Un po' di vacanza, poveretto, è un po' stanco, ha avuto un'annata buona ma lunga. L'ippodromo chiama e Taranto risponde, sono estremamente felice della giornata, felicissima per Alessandro e la cosa che mi ha reso più orgogliosa sono state le belle parole del proprietario del cavallo, che mi ha detto che mi ha fatto i complimenti per come è gestita e Alessandro mi ha detto che la pista era splendida.